Nei giorni scorsi i subcommissari delle diverse sezioni erdigue in cui è organizzato il consorzio di bonifica della baraggia biellese e vercellese. Per l'Arbano si occuperà Piercarlo Tosone, ad Orborio opererà Gabriele Ferraris, per Buronzo ci sarà il contributo di Enrico Comerro, Ghislarengo sarà di Angelo Barone, mentre Greggio di Mario Frattino. Oldenico sarà preseduto da Roberto Roncarolo, San Giacomo Vercellese da Giuseppe Tagliabue, Rovasenda invece rimarrà feudo del commissario straordinario Luigi Momo.